Ciao a tutti! Oggi prepareremo la pasta brisè. Il tempo di preparazione della ricetta è di 40 minuti circa. Gli ingredienti sono farina di tipo 00, strutto, acqua e sale. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo strutto, la farina, l'acqua che deve essere fredda, e il sale ed azioniamo il bimbi per 40 secondi a velocità 5. Formare un panetto, avvolgere nella pellicola trasparente e riporre in frigo per 30 minuti prima di utilizzarla. Trascorso il tempo abbiamo ripreso la pasta brisè dal frigo. Utilizziamola. Rimuovere la pellicola trasparente e posizionarla su un piano di lavoro infarinato. Pasta brisè. Si conserva in frigo per 3 giorni, ideale per torte salate, rustici e strudel. Grazie e alla prossima ricetta! Grazie a tutti!